Capisco che l'argomento è molto vivo, ma poi avremo una discussione. Allora, quello di cui parlerò io adesso è, lo capite subito, strettamente legato a quanto ha detto il professor Farina adesso. E lo capirete meglio, spero almeno, da quanto vi dirò. E proprio per questo motivo, io per parlare dei rischi della diagnostica prenatale invasiva, e cioè sostanzialmente l'amniocentesi e l'avillocentesi, che sono le due metodiche rutinarie, parto da alcune considerazioni di ordine epidemiologico, relativa al loro utilizzo, e come è cambiato il loro utilizzo nel corso degli ultimi anni. Vedete, questi sono i dati della Regione Emilia Romagna, aggiornati al 2013, alla fine dell'anno discuteremo i dati del 2014. E vedete che un fenomeno consolidato, affermato e consolidato nel corso degli ultimi dieci anni e più è quello che ha visto il ricorso alle procedure invasive di diagnosi prenatale Sia alle donne di sotto dei 35 anni. Quindi è un fenomeno medico-sociale confermato. Cosa ha influito in maniera determinante nella diminuzione del ricorso alla diagnostica invasiva nel corso degli ultimi dieci anni, dieci, quindici anni? Essenzialmente due fatti. Il primo, il test combinato. Perché il test combinato, voi tutti sapete, ci ha consentito di meglio selezionare le donne da inviare alla villocentesi o all'amniocentesi rispetto al criterio ormai rozzo dell'età materna perché oltretutto l'età materna avanzata nella popolazione ostetica negli ultimi dieci anni è costantemente aumentato. Quindi se noi avessimo seguito quel criterio rozzo, nel corso degli ultimi dieci anni il ricorso all'amniocentesi e all'amniocentesi avrebbe dovuto aumentare perché aumentava il numero delle donne sopra i 35 anni. In realtà l'introduzione del test combinato ha rappresentato, ha avuto un effetto di calmerare questo ricorso perché ci ha consentito meglio di selezionare meglio le donne a rischio. L'altro aspetto sono i test invasivi prenatali, un effetto che noi in Italia incominciamo a verificare in questi ultimi mesi, possiamo dire, quest'ultimo anno, ma negli Stati Uniti è un fenomeno che già da più di un anno viene registrato. Questa diapositiva vi illustra il contributo del test combinato nell'esperienza mondiale forse più strutturata e più significativa da questo punto di vista. E' quella danese dove già più di dieci anni fa si cambiò proprio la politica di accesso alla diagnosi prenatale. Voi sapete che in Danimarca storicamente è stata quella, la Danimarca, lo Stato europeo che aveva la politica più liberale di accesso all'amniocentesi allora. Tutte le donne che volevano potevano fare l'amniocentesi a prescindere dall'età. Era l'unica nazione europea che consentiva questo tipo di accesso. Quando fu elaborato il test combinato la politica di accesso del servizio sanitario cambiò radicalmente. Non tutte le donne, ma l'accesso era governato dall'esito del test combinato. Questo ha consentito loro, vedete, di praticamente dimezzare il ricorso nel giro di otto anni il numero di donne che facevano ricorso ai test invasivi. Sostanzialmente si è praticamente dimezzato, arrivando al 5-4% che è poi il tasso di farsi positivi del test combinato. L'effetto dei test non invasivi, dicevo che noi adesso incominciamo un po' a vedere, probabilmente vedremo nei prossimi mesi, nel prossimo anno, l'effetto dell'introduzione di questi test, ancorché in maniera non strutturata, perché voi sapete che non c'è nessuna disposizione, almeno fino adesso, delle autorità sanitarie rispetto al modello da introdurre nella nostra pratica clinica di accesso, di utilizzo di questi test, ma negli Stati Uniti, vedete, il numero dei test invasivi diminuisce in rapporto all'aumentare dei test non invasivi. Questa è un'altra esperienza, vedete come nel corso degli ultimi 4 anni il numero delle CVS e delle amniocentesi sia diminuito. Questo è una, io ho ricostruito da un punto di vista grafico i dati, cioè, desunti da questo lavoro, non riporto i dati nella tabella, ma riporto gli andamenti, l'andamento del fenomeno. Vedete, prima del test combinato c'era un ricorso all'amniocentesi di gran lunga superiore rispetto al ricorso all'avillocentesi, dopo il test combinato le cose si sono invertite, cioè sono diminuiti in assoluto, è diminuito il numero dei test invasivi rispetto all'era pre-test combinato, ma c'è stato un incrocio del ricorso alle due metodiche che è virato a favore del prelievo di villicoriali rispetto all'amniocentesi. È aumentato il numero del prelievo di villicoriali, è crollato il numero delle amniocentesi, complessivamente il numero dei test invasivi è comunque nettamente diminuito. Noi in Emilia Romagna abbiamo verificato questo fenomeno, non siamo ancora giunti all'incrocio, ma io penso che i dati che andremo a valutare alla fine dell'anno relativamente al 2014, secondo me, se non dimostreranno la parità di ricorso alle due metodiche, probabilmente registreranno già l'incrocio. Dopo i test invasivi, secondo i dati di questo studio qua, vedete, scrolla tutto. Il ricorso ai test invasivi è un'esperienza sostanzialmente, praticamente quasi marginale. E' un cambiamento di scenario, abbiamo detto più volte in questi due giorni, epocale. Cioè ci si configura uno scenario diametralmente opposto rispetto a quello che siamo stati abituati a considerare nel corso degli ultimi 30-40 anni. Naturalmente questo ha scatenato tutta una serie di reazioni, più o meno legittime, più o meno motivate da ragioni più o meno plausibili. Vi faccio un piccolo schema, prima di entrare nel merito poi di queste ragioni, che riassume, un po' l'avete visto ieri, io entro un po' più nel dettaglio, come si è modificata proprio quest'attitudine nel corso degli ultimi 30-40 anni rispetto al problema del ricorso ai test invasivi. E lo faccio dando i dati riferiti da un lato a quella che è, diciamo così, di il modo con cui la donna e la coppia affronta questo tema. Cioè il tema della offerta e quindi dell'assunzione da parte della coppia di una decisione del tipo di test che deve fare. E dall'altro, considerando il problema sul versante, diciamo così, di chi deve prendere delle decisioni di politica sanitaria rispetto all'efficacia e l'efficienza di un test proposto, vi ricordo, proposto attivamente. E quindi la proposta proattiva implica una presa di responsabilità da parte della struttura che lo propone in ordine alla possibilità di onorare ovviamente la richiesta e in ordine all'efficacia e l'efficienza del test che viene proposto, sia in termini di risultati sia in termini di costi. Bene. Negli anni 70 la proposta era il criterio che io ti propongo è quello dell'età. L'età, il criterio di sopra di 35 anni, se vuoi puoi fare l'amniocentesi e il valore predittivo positivo, cioè la possibilità che una volta che tu fai l'amniocentesi, la probabilità, una volta che fai l'amniocentesi, di ritrovare un feto a feto è di 1 a 143. Cioè ogni 150 donne che facevano l'amniocentesi si ritrovava un'anomalia cromosomica. Sul versante di chi doveva giudicare sull'efficienza di questo metodo vedete la sensibilità era del 30%, cioè il 70% dei feti down comunque sfuggivano a questo tipo di programma e i farsi positivi erano allora del 10% perché allora, negli anni 70, la quota parte di popolazione ostetrica di età superiore di 35 anni era del 10%. Adesso in Emilia Romagna, ieri il professor Cocchi parlava di 33%, ma erano dati del 2012. Adesso sfioriamo il 45%, siamo a circa il 45%. Quindi applicare adesso questo metodo significa che noi abbiamo un tasso di farsi positivi del 40-45%, magari con un miglioramento di sensibilità perché chiaramente fare un numero così alto di amniocentesi sicuramente ci consente di riconoscere un numero più alto di feti down, ma non credo che si superi il 50-55%. Negli anni 80 lo scenario si modificò attraverso un'introduzione del triplo test. Alla donna eravamo in grado di proporre questo test in alternativa all'età materna come criterio di selezione per accedere a diagnosi prenatale. La soglia che veniva considerata come soglia di rischio era 1,2,50. Voi sapete che le soglie sono assolutamente arbitrarie, come era arbitrario all'età dei 35 anni, piuttosto che 38, piuttosto che 30, piuttosto che 32, una scelta arbitraria allo stesso modo abbritare 1,2,50 per quella che si avvicinava al rischio di 35 anni. A queste donne noi dicevamo se fai l'amniocentesi dopo un test, dopo un triplo test che ha evidenziato una soglia di rischio superiore a 1,2,50 la probabilità che il feto sia affetto è di 1,55, cioè sostanzialmente 3 volte più basse rispetto al... cioè diminuiamo di 3 volte il ricorso all'amniocentesi. La sensibilità era il doppio rispetto a quella precedente con un tasso di fassi positivi che era della metà. Il triplo test nella storia dell'offerta di queste metodiche ha rappresentato sicuramente il test che ha maggiormente migliorato la nostra performance. I test successivi rispetto a quelli precedenti hanno consentito un incremento di efficienza e di efficacia inferiore rispetto a quello che ha comportato il triplo test nei confronti dell'età materna. Ricordiamoci perché è un merito di questo test che adesso non si fa più però ebbe un merito allora. Negli anni 90 fu introdotto il test combinato vedete la probabilità che un test combinato positivo che è una donna con un test combinato positivo che affrontava un test invasivo avesse un feto a effetto di 1 a 22 ne ha parlato prima il professor Farina la sensibilità è migliorata ma non tanto quanto migliorò dopo l'introduzione del triplo test con un tasso di fasi positivi sostanzialmente uguale uguale nei anni 2010 i test non invasivi vedete qui i numeri sono quelli che voi vedete la possibilità che un test positivo considerato tale con tutto quello che aveva detto Farina è di 1 a 2 e c'è sostanzialmente su due donne che vengono considerate a rischio e che vengono avviate all'amniocentesi o all'avillocentesi un feto risulta feto la sensibilità vedete è molto alta questa è la sensibilità per la trisomia 21 praticamente quasi del 100% i fasi positivi crollano cioè sostanzialmente 0,1 significa che noi avviamo alla diagnosi prenatale lo 0,1 della nostra popolazione ostetrica questo dato applicato alla realtà dell'Emilia Romagna significa che adesso noi in regione facciamo circa 7.000 amniocentesi e vileocentesi l'anno ne faremmo alcune decine con quello che comporta tutto questo e qui andiamo alle reazioni rispetto a questo cambiamento epocale e chiaramente noi stiamo parlando di problemi medici abbiamo accennato ieri a problemi etici ci sono anche problemi economici di interessi privati e di stanziamenti pubblici rispetto a questi test allora la prefigurazione di un scenare di questo genere per cui si passa da 7.000 amniocentesi 7.500 amniocentesi a 70 o 40 non può non indurre delle reazioni in un qualche modo sia di ordine scientifico ma sia anche di ordine pratico che noi abbiamo effettivamente registrato allora dal punto di vista pratico vedete che vogliamo si parla di lobby di delle ditte che hanno introdotto questi test parliamo un po' anche delle lobby delle ditte che avevano e hanno un interesse nella pratica rispetto all'utilizzazione dei test tradizionali del cariotipo fetale sul liquido amniotico sul preleo dei villicoriali che si vedono sostanzialmente sgonfiare improvvisamente il loro business e quindi in un qualche modo si devono difendere e vedete questo è un modo secondo me un po' scorretto ma comunque l'abbiamo registrato e io ve lo ve lo riporto qui l'anno scorso proprio in previsione quando si cominciava a delineare questo cambiamento straordinario del nostro scenario vedete è comparso questa pubblicità sui giornali sui maggiori giornali nazionali Corriere della Sera Repubblica il ginecologo curante è tenuto a fornire tutte le informazioni sui limiti dei test di screening prenatali ed in particolare sugli errori del test del DNA fetale sul sangue materno sentenza sentenza questa è quella di cui vi accennavo ieri se non ti ha indicato il tuo ginecologo la possibilità di conoscere molte malattie genetiche attraverso una semplice amniocentesi e il tuo bambino è nato con una di queste chiamaci eccetera eccetera hai bisogno di una tutela eccetera questo è un modo di reagire a questo cambiamento di scenario che contiene un'informazione che è quella magari in maniera non tanto subliminale la semplice amniocentesi significa che l'amniocentesi è un test praticamente come fare un intramuscolo cioè è un test di nessun conto sul piano puramente scientifico la reazione è di un livello un po' più alto però è quello di dimostrare che i dati che noi abbiamo disponibili in letteratura rispetto al rischio dell'amniocentesi e dell'amniocentesi sono dei dati che in fin dei conti ridimensionano molto questo rischio non è una semplice amniocentesi ma quasi ci arriviamo ecco questo è un lavoro comparso quest'anno sul White Journal il quale ha ricalcolato ha calcolato il rischio comportato dalla procedura di amniocentesi e villocentesi sulla base di tutta una serie di studi che sono comparsi in letteratura e le conclusioni di questo lavoro sono che il rischio dell'amniocentesi è dello 0,1% 0,2% e quello della villocentesi è del doppio la conclusione è i rischi legati alla procedura i rischi di aborto dopo amniocentesi e CVS sono molto più bassi rispetto a quelli che vengono considerati correntemente questo è un altro messaggio che secondo me dal punto di vista culturale è figlio della valutazione della considerazione di questo scenario che va cambiando cioè ci si aggrava proprio dice ma guardate tutto questo che sta avvenendo in realtà è una bolla di sapone perché forse quel diaframma di cui parlavamo ieri dell'invasività e del rischio legato all'invasività in realtà può cadere non perché ci sono questi test non invasivi ma può cadere perché in realtà ci siamo resi conto ci stiamo rendendo conto che questi test non sono rischiosi e quindi si può ricorrere tranquillamente una semplice amniocentesi in realtà se poi voi andate a guardare questo lavoro vedete che gli studi presi in considerazione sono 21 di almeno mille casi pubblicati dopo il 2000 quindi in una diciamo così periodo storico abbastanza vicino a quello nostro per quanto riguarda la amniocente ci sono sette studi tre osservazionali retrospettivi senza gruppo di controllo tre osservazionali con gruppo di controllo un osservazionale prospettico con controllo per quanto riguarda la amniocente ci sono quattordici studi sei osservazionali retrospettivi senza gruppo di controllo quattro osservazionali retrospettivi con gruppo di controllo e quattro studi caso controllo non c'è nessun trial prospettico randomizzato che voi sapete rappresenta lo studio dal punto di vista statistico ed epidemiologico che fornisce i dati in assoluto più robusti alla base delle meta-analisi quindi non c'è nessun trial ed effettivamente dopo i primi trial fatti negli anni 80 su amniocentesi e villocentesi non è stato mai condotto nessun trial quindi noi dobbiamo se vogliamo essere corretti dobbiamo fare riferimento necessariamente ancora a quegli studi e a quei dati che hanno rappresentato per tanto tempo la base per il nostro counseling ve li ricordo due diapositive per ricordarveli per l'amniocentesi c'è un solo studio fatto che è quello famoso ne abbiamo parlato tante volte anche in questi corsi negli anni 80 in Danimarca fatto nel periodo in cui in Danimarca c'era quella liberalità nell'accesso alla diagnosi prenatale tutti potevano accedervi a prescindere dall'età questo studio vi ricordo fu fatto in donne di età inferiore a 35 anni perché dal punto di vista etico si potè offrire alle queste donne la possibilità di entrare nel trial è questo che la 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 particolarità di quello tipo di politica che consentì allora di fare questo trial che è rimasto unico perché dal punto di vista etico in Danimarca considerarono eticamente plausibile offrire a una donna che si incingeva a fare che aveva fatto richiesta di amniocentesi e che aveva meno di 35 anni ritennero plausibile dal punto di vista etico propogli di entrare nel trial e fu fatto questo trial donna sì donna no e il rischio allora registrato voi tutti lo sapete era esattamente dell'1% 0,7 contro 1% di incremento di rischio cioè 0,7 contro 1 quindi un incremento di rischio esattamente dell'1% e questo è il diciamo così il rischio quotato che ha rappresentato per tutti questi anni e in parte ancora rappresenta lo vediamo fra un attimo la quota di rischio incrementale di aborto che noi dobbiamo offrire alle donne dobbiamo rappresentare alle donne che si accingono a fare l'amniocentesi questo è il dato della meta-analisi di quell'unico lavoro uno studio così per il prelievo dei villicoriali vi ricordo che non è mai stato fatto non è mai stato fatto un trial strutturato in quel modo per le donne che si sottoponevano al prelievo dei villicoriali d'altra parte voi capite bene anche che forse era anche inutile farlo se lo sostituivamo con uno studio di confronto tra il prelievo dei villicoriali e l'amniocentesi cioè con una metodica della quale già avevamo un trial che ci aveva detto qual è il rischio ed effettivamente il problema era non tanto di fare del trial tra le donne che non facevano nulla e le donne che facevano i prelievo dei villicoriali quanto un trial di confronto tra le donne che facevano i prelievo dei villicoriali e le donne che invece decidevano di fare l'amniocentesi ci sono quattro studi tre studi la metanalisi di questi tre studi vedete che non ha messo in evidenza questi sono studi e ce ne sono degli altri fatti di confronto tra il CVS transcervicale e l'amniocentesi dal cui risulta che il CVS transcervicale è più rischioso dell'amniocentesi cioè con un po' un rischio di aborto maggiore questi sono studi sul confronto tra CVS transaddominale e prelievo dei villicoriali e amniocentesi ovviamente transaddominale e vedete che il rischio delle due metodiche di aborto aggiuntivo di aborto è assimilabile da questo noi deduciamo che il rischio di incremento di aborto della prelievo dei villicoriali è assimilabile quindi è dell'1% assimilabile a quello dell'amniocentesi così come è stato registrato dal trial danese questi sono studi effettivamente tutti fatti negli anni 80-90 il problema è che sono passati 20 anni forse le cose sono cambiate è cambiata la manualità certamente alcune cose sono cambiate altre cose non sono cambiate cioè il fatto di che sempre nuove persone vengono addestrate vengono immesse nell'esecuzione di questi prelievi rappresenta un elemento costante quindi l'apprendimento quindi l'esperienza riguarda una quota parte di persone ma non riguarda quella quota parte di persone che vengono immesse nella pratica di queste procedure sono migliorate le condizioni tecniche gli ecografi sono molto migliori rispetto al passato quindi verosimilmente noi siamo tentati a pensare che quelle cifre quotate allora siano forse da abbassare un po' ma è una valutazione che noi facciamo anche in considerazione di quegli studi che abbiamo visto prima che dicono che il rischio valutato con studi osservazionali è di quell'entità lì 0 1 0 2 eccetera però la forza di quegli studi non è tale da essere paragonata alla forza degli studi che sono stati fatti negli anni 80 90 per cui questo è il lavoro alla quale normalmente si fa riferimento che è un update sull'argomento fatto da Anna Tabor che l'autrice che produsse e pubblicò lo studio danese è una ostetrica danese una ginecologa danese e la conclusione è che oggi ragionevolmente partendo da quel dato dell'1% possiamo probabilmente identificare il rischio aggiuntivo di aborto rappresentato dalla come conseguenza dell'utilizzazione di queste procedure invasive allo 0,5 1% questo dovrebbe essere la entità di rischio che oggi noi dovremmo rappresentare a tutte le donne in sede di counseling nel momento in cui chiedono decidono di ricorrere a questo tipo di indagini quindi le conclusioni sono le indagini prenatali invasive hanno conosciuto un netto declino della loro applicazione negli ultimi anni e sarà ancora più netto nei prossimi anni che andiamo ad affrontare la loro esecuzione comporta comunque un incremento dei rischi di base di perdere fetali la semplice amniocentesi non c'è la frequenza con cui in futuro si ricorrerà a queste indagini dipenderà dall'efficacia e quindi sostanzialmente da quello che varrà fuori dai test non invasivi e dal grado di accettazione dei loro limiti da parte delle donne perché ricordiamoci che comunque tutti i test non invasivi sono test di screening quindi di selezione quindi di ricalcolo del rischio li chiamo io test di ricalcolo del rischio non sono test diagnostici la deformazione mentale questa secondo me con la quale noi siamo portati a giudicare questi test perché ab inizio questi test venivano proposti più o meno attratamente più o meno subdolamente come test diagnostici alternativi ai test invasivi in realtà non è così e tutti ormai si sono uniformati a considerare questi test come test di calcolo del rischio sono test di ricalcolo del rischio molto efficaci molto potenti ma non sono test diagnostici il ricalcolo del rischio poi riguarda non tutte le anomalie cromosomiche ma solamente alcune e avete visto disomia eccetera certamente quelle legate all'età ma non tutte si sta andando all'ampliamento microdelezioni eccetera ma tutto il resto è fuori allora ci potrebbero essere delle donne che sono invece interessate a superare questo limite e ad affrontare non con una semplice amniocentrice ma con un test invasivo che comporta comunque un rischio la situazione di assoluta o quasi assoluta tranquillità nei confronti perché anche i test cosiddetti diagnostici e lo sono hanno comunque un limite non sono c'è un faso di farsi positivi di farsi negativi che voi tutti conoscete io sono strabiliato dal fatto che uno si meraviglia che il test non invasivo abbia un tasso di farsi positivi di farsi negativi del 1 di e quello di dei villicoriali abbiamo accettato per 30 anni un test diagnostico caricato di un tasso di farsi positivi dell'1 e 5 dell'1 2 per cento è un tasso di farsi negativi di 1 a 5 mila 10 mila insomma ma perché siamo deformati perché siamo portati a considerare quei test come test di diagnosi non sono test di diagnosi sono test di ricalcolo del rischio molto potenti che si avvicinano a test ma non sono test diagnostici e soprattutto non coprono comunque l'intero spettro delle anomalie cromosomiche che possono essere viste con i test invasivi ancorché non legate all'età quindi non dovrebbero interessare una donna di 38 anni ecco quindi quindi in ricorso a queste metodiche probabilmente non si azzererà o comunque nel senso che il ricorso riconoscerà una percentuale che forse sarà comunque sempre superiore a quella rappresentata dalla positività dei test non invasivi perché ci sarà sempre forse qualche donna che vorrà ricorrervi comunque lì dipenderà molto anche dalla politica che verrà attuata quale sarà la politica di accesso una volta se verranno se e se verranno inglobati i test non invasivi e quello il ricorso a questi test dipenderà anche da questo tipo dalla politica che verrà scelta e non la dobbiamo certo scegliere noi la politica la politica di accesso è un atto squisitamente appunto politico che sperabilmente noi speriamo come tecnici si basi su valutazioni tecniche e su valutazioni di ordine economico di sostenibilità della spesa e sono valutazioni che adesso in regione Mila Romagna una commissione sta facendo dopodiché l'aspetto dell'interesse delle case certo bisognerà prenderlo in considerazione verranno messe ognuno offrirà quello che sarà in grado di offrire i prezzi che sarà in grado di fare e dopodiché chi dovrà decidere deciderà ma non è mica la prima volta che una autorità politico-sanitaria deve decidere da questo punto di vista è la loro pratica di tutti i giorni quando negli anni 70-80 70-80 esplose la diagnostica ecografica lo Stato produceva i servizi di bioingegneria o lo Stato produceva degli ecografi no no era una diagnostica che si è imposta prepotentemente potentemente il servizio sanitario ha dovuto prendere atto di questo e comprare degli ecografi non li ha mica fabbricati e metteva insieme di fronte tutte le ditte dice tu nella migliore delle ipotesi eh tu quanto quanto questo dovrebbe essere diciamo così percorso virtuoso ma io sono convinto che il percorso virtuoso in questo caso verrà fatto perché insomma i tempi sono cambiati quindi non scandalizziamoci neanche di questo aspetto privatistico eccetera non è la prima volta e sarà sempre sarà sempre sarà sempre così il problema ma qui non voglio essere lungo il problema della dell'imponenza diciamo così e della dell'aspetto privato in questo settore qua secondo me più che per il suo aspetto economico dovrebbe preoccupare più per l'aspetto culturale scientifico e dobbiamo chiederci com'è che per esempio tutti gli studi sono stati fatti sotto legida di queste case e i laboratori istituzionali le strutture istituzionali non si sono avviati verso questo tipo di però insomma questa è un'altra considerazione però quello che voglio dire è che stiamo fronteggiando una situazione in grande di grande cambiamento non dobbiamo scandalizzarci di niente siamo in attesa della politica della scelta della politica da parte della regione per lo meno quando arriva dalla nostra regione siamo a questo livello della politica della definizione dei criteri di politica sanitaria di accesso dopodiché andremo avanti sicuramente utilizzando questi test con criteri che saranno e che magari non saranno inamovibili magari si modificheranno dopo un anno o dopo due staremo a vedere vi ringrazio grazie 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 grazie